Carmela Pomposo era in programma in questo weekend, una manifestazione qui ai Molini Marzoli, ma causa maltempo sarà rinviata? Sì, purtroppo sì, sarà rinviata per l'allerta meteo sabato e domenica, due giornate che avevamo organizzato con l'assessore Ottaviano, ricco di venti. Avevamo dato la possibilità a tutti di partecipare e anche oggi abbiamo preso altre adessioni, dando la disponibilità dei Molini, ma purtroppo abbiamo bloccato tutto perché il tempo non lo permette. Sicuramente faremo altri eventi in data da destinarsi. In particolare che cosa era previsto qui ai Molini? Allora, avevamo artisti di spicco che Torre del Greco ha e che purtroppo hanno il cassetto e la nostra idea è stata proprio di aprire questo cassetto e mettere a disposizione dei torresi. Quindi con artisti come per esempio il pasticcere che ha vinto il premio mondiale del panettone Luigi Vitiello, i presepisti, l'arte presepiale Torre del Greco che è famosissima in tutto il mondo. Poi anche altri piccoli artigiani, proprio per dare la possibilità anche a loro di farsi conoscere sul territorio con la lavorazione di cappelli, scarpe, sandali, cinture, lavorazione anche del filo, corredini, addobbi natalizi. E' anche per dare la possibilità ai pescatori di poter intervenire in questo evento. Quindi c'erano anche i pescatori che preparavano il cosiddetto coppo fritto. Quindi sostanzialmente incentrata sull'artigianato locale e sulla pesca. Sì, artigianato e pesca col supporto della Croce Rossa.